Buonasera a tutti i telespettatori di R24 e Teleromagna da Andrea Laggini. La giornata di domenica, il primo giorno del mese di ottobre, ha visto tanta nuvolosità e qualche debole rovescio, ma nella giornata di oggi le schiarite sono tornate le protagoniste soprattutto nel corso del pomeriggio. La situazione però vedrà un'alta allenanza tra miglioramenti e peggioramenti, infatti la giornata di domani vedrà un nuovo momento della nuvolosità che si tradurrà con cieli spesso grigi soprattutto a metà giornata su buona parte del nostro territorio regionale. Non ci sarà un vero e proprio peggioramento perché avremo solo qualche debole precipitazione intermittente sull'Appennino e qua e là sulle basse pianure soprattutto del Ferrarese, quindi nessuna pioggia organizzata ma più che altro cieli grigi. Cieli grigi che porteranno un lieve aumento delle temperature minime che saranno comprese tra 11 e 15 gradi, valori invece massimi in calo con valori compresi tra 17 più 21 gradi, ventilazione debole. Inizialmente da sud ovest sull'Appennino il mare risulterà quasi calmo, poi la giornata di mercoledì rivedrà le schiarite a tratti ampi e soprattutto nel corso del pomeriggio. Invece un peggioramento che potrebbe risultare a tratti intenso con un calo termico significativo potrebbe giungere a cavallo tra venerdì e sabato ma ne riparleremo nei prossimi appuntamenti. Per ora è tutto buona serata da Andrea Raggini. Grazie.